Musica Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo quinto video della Pixelmon Nel secondo video ho fatto Riccone e Snob, mi sono riempito di soldi e in questo li utilizzeremo Allora ragazzi, devo forse scambiare qualcos'altro? Non lo so Sufficient Currency, che figo lo scrive sotto, ho fatto un cazzo Allora, sto usando tutto il carbone che io possiedo per scambiarlo con bancone da 5€ Non so perché, forse sono solo un idiota, probabilmente, anzi è la cosa certa Dovrei aver raggiunto la cifra che serve per comprare la casa, non lo so mica, devo un attimo vedere Allora, innanzitutto andiamo, sì, comunque facendo due conti rapidi Andiamo al secondo piano di qui, dove c'è il tizio che cambia soldi, si chiama cambia soldi Non c'è cazzo da ridere E andiamo a prendere tutti i 10€, spammo i 10€ Dimezzeremo la quantità di soldi, li cambiamo ragazzi, questo è il cambia valuta Ci vuole un po' di pazienza, in effetti Però in effetti i 1000€ non sono pochi, 1000€ non sono pochi Quindi c'è, insomma, da scambiare un pochettino Ma vorrete ristere texture, quanto so fighe Cioè, guardate, guardate come l'ho fatta Cioè, dimmi se sono un cano, cazzo, fighissime Guardate quelle belle 10€ Guardatemi, madonna, mi danno, porca troia, mi denunciano per contraffazione, cazzo Ho fatto i soldi veri in Minecraft Porca, potrei andare con Minecraft al negozio con l'iPad in mano E faccio, guarda, questi sono i soldi, li te li do E quello fa, eh, soldi veri E mi dai la roba, capito, quei soldi del gioco Sto facendoglieli vedere Gli devo lasciare il tablet, però, dettagli Ok, nel frattempo, mentre parlavo e dicevo stronzate Ho convertito tutti i soldi in banconote da 20 E sono un deficiente ritardato senza speranze Perché devo convertirli in banconote da 50 Per passare a quelle successive Perché quelle in 20 non possono essere trasformate Quelle in 50, sì, sono un po' deficiente Ragazzi, abbiate pazienza E giuste, giuste 22 E ne vengono fuori ben 11 banconote da 100 E ben 5 banconote da 200 E un cazzo Perché le trasformano in banconote da 200? So stupito E ben 2 banconote da 500 Guardate che belle Ma che sono fighe, ragazzi Guardate, i miei banconote da 500 euro E quelle di 100 sono carine Guardate come sono fighe Mamma mia Bellissime E adesso andiamo al negozio con le mie bellissime banconote E compriamo quello che serve Non è qui E qui in Upgrades Abbiamo i piani Per costruire I plans Alleluia Tipo adesso ci verrebbe tipo la musica epica Oh mio Dio Ragazzi, ho il piano per costruire il primo a casa Sono il primo nel server? Sono il primo nel server? C'è qualcun altro che c'è? Nessuno? Basta Sono il primo nel server con la casa Basta Sono il primo nel server in una casa E sarò il primo nel server in tutto Dove essere il primo a fare il 10 Penso che qualcuno l'avrà già fatto Devo curare il Pokémon Devo fare il primo il 10 Se qualcuno l'ha fatto non lo so Però io farò il 10 prima Perché anche se l'hanno fatto sarò ancora più primo io Windows Virus Protection Un ciclipuff mi ha sfidato Azione Boom Ho accettato Vaffanculo il ciclipuff di berda Sì mi è arrivato un segnale antivirus dal PC Pare che c'è virus nel PC Ma tanto non mi ho fatto un cazzo Se mi fottono l'account YouTube Spacco il PC Quindi Scialla come cosa insomma Allora ragazzi Cos'è questo? Un litri calvetti No Devo trovare qualcosa di affrontabile per me Ah! Un ratta dal Oddio ho perso me da vita No 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 Non è possibile No vabbè dai No aspetta aspetta No raga Io penso che fare il livello 10 Sarà la cosa più difficile Che ho fatto mai nella storia di Pokémon E mi si è buggato il client Mi si è buggato il client Waiting bug ragazzi Il classico waiting bug di Pixamon Nice GG WorldPlayer Restarto i Pixamon Ok Riaccomi in gioco Sperando che stavolta sarò più fortunato Nel non incrociare Pokémon livello 80.000 E farmi shottare Oddio ragazzi Fa un caldo che si muore Non mi la faccio più Nonostante fa freddo qui sotto casa mia Fa caldo Fa freddo ma fa caldo Non mi la faccio più Mi la faccio più Aiuto Che cos'è un fiore arancione Vaffan Livello 9 Ci credo Ci credo Ci credo Eggans al 10 Ok Azione Porca panetta Ok no Direi che non c'è Ah è debola Eggans È veleno Cicorita è un debolo a veleno Guarda Bug di combattimento di nuovo No raga Mi la posso fare Mi la posso fare No niente No non è possibile Non può essere che ogni fight Si No non può essere Ok ragazzi Sto studiando questo errore Del Del crash Insomma Del Dell'od of battle E ho scoperto Ho scoperto Ascoltate bene Attentamente le mie parole Che il bug è dovuto Da Eggans e Arbok Vedete cosa Esatto ragazzi Eggans e Arbok In questa versione Della Pixelmon Fanno crashare il gioco Cioè fanno Apparire il bug Del waiting Il bug del post battle E Non senza Non senza È più totale Ok sto ricurando Il pokemon Sperando Che stavolta Non faccia la stessa fine Dell'ultima Andiamo a vedere se becchiamo Qualche stronzo Di nuovo Guarda ragazzi Oggi sbrocco Cos'è quello Un fleffis Arriva all'8000 No cos'è questo Che cazzo di problemi hai Non eri vicino a me Ma che cazzo Mi è venuto a prendere lui No dai Non me lo uccidere Ma vaffanculo Sono scappato No ragazzi C'è qualcosa No non è possibile Vabbè Vaffanculo Ok ragazzi Sono riscappato Nella prateria E nessuno Ma Livello 6 Livello 6 Livello 6 Pidano cazzo Dai che livello 6 No c'è Ekans dietro Non prendere Ekans Oddio se prende Ekans Mi ribuggo un'altra volta Non esiste proprio Perché stai accanto Ekans Pezzo Guarda Il gioco di merda Me lo fa apposta Guarda Se mi sa Guarda che lì va dietro Non si fa sfidare Sai che se lo sfido Mi faccio il bug Pezzo di lurido Schifoso Rattata al 17 Ma perché non lo prendo Ma so stupido Io non lo prendo il gioco Guarda che mi sfida Ekans Meglio vai Cicurita Spacca l'azione Azione Azione Ah ah Sto vincendo Sto figo Ok ragazzi Sto per livellare Che bello Che bello Che bello Il mio bug Il mio bug Comincia a fare qualcosa Non ha effetto Ah ah Uccidilo Uccidilo Ultimo colpo Madonna ragazzi Mi ha fatto Mi ha fatto colpo Coda all'infinito Si Polvere velenosa Cicurita livello 7 Già 8 9 Ma che cosa Ha imparato foglie lama Ma che cazzo è successo Ragazzi Ok ragazzi C'è qualcosa Che non va con l'exp In questo gioco Ho ucciso Un minu Un al 6 E Cicurita ha fatto Livello 9 Ha imparato foglie lama Va bene E ragazzi Io credo che sfido Anche questo Pacirisu Almeno la facciamo finita Per questa settimana Perché tanto ci siamo Foglie lama Vai Fagli vedere Che comanda Ovviamente non è super efficace Ma almeno è stabbato Perché sono erba Vai Foglie lama Lama foglie Cruticalite Cicurita al 10 Cicurita al Sintesi Oh Allora Capito Bi-restore By the sun Ti imbatto Allora E questa funziona meglio Con il giorno di sole Vero se non sbaglio L'evo ruggito Sì Ragazzi Il mio pokemon Ha imparato sintesi Ed è a livello 12 E per questa settimana È fuori Mi spiace Ok ragazzi Craftiamo Altre Zuppe di funghi Mi servono funghi Gnam gnam Ciao buona idea Non ti posso sfidare Perché il mio pokemon È troppo figo per te E torniamo al punto Dove avevo casa 1200 blocchi Che palle 1200 blocchi Ce lo posso fare Vaxander Credo nel tuo potere E io non farò mai Questi 1200 blocchi Perché sono uno sfigato E canto come un deficiente Cos'è questo? Eh Un leon Livello 7 Quanto lo vorrei sfidare Ragazzi Però se dovessi utilizzare Il mio pokemon Adesso Sviolerei le regole E verrai bannato Instant dalla serie E sinceramente Non mi sembra Una buona idea Guarda una bacca gialla In ricrescita Quella di prima Ricordate lo scorso video Vai canza Vaffanculo Dove sei andato Tanto posso fuggire Perché sono troppo alto Perché sono troppo alto E figo Perché sono un nano di merda Strisci per terra Stupido Serpente Lurido Beh effettivamente È un serpente Non è un insulto È un fatto Però dettagli Mille metri Che palle Uo uo Ho visto una cosa interessante Cane da succhero Cane da succhero Cani 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 Non sapete che le canne Si pianta Davvero Vi faccio vedere Con l'agricraft Vabbè Chi vede la Chi vede la La grania sky Che sto facendo Lo sa Che le canne da succhero Si piantano Con i nin crop E vengono tipo Piantina figa E si possono raccogliere E fanno anche Fino a 27 canne Con un blocco No quello Ancora non lo sapevate Però dettagli Uuuuh Ciliegie Belle le ciliegie Mi piacciono Belle Che mi piace la texture Guardate che figa Sembrano ciliegie vere La metto qui Che si vede meglio Guardate Guardate Ciliegie Sembrano due testicoli Venuti male Però dettagli Magari c'hanno Lagono re Corre Xander Corre 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 Xander Corre Corre Xander Va Chi è? Bacca gialla Ahahah Slow Si levi dal cazzo Slow deficiente Ti levi dalle palle C'è la bacca gialla per me Corre Corre Xander Non è vero ancora Non aspetta Prima mi Ecco Prende la bacca E poi comincia a corre 3 2 1 Corre Corre Xander Corre Corre Ma che ci posso fare Con le ciliegie Secondo voi Ci sarà qualche craft Tipo Ok che posso fare Sicuramente il succo Di frutto Ancora 780 metri No Non è possibile Raga Preparatevi che farò la ferrovia Io ve lo dico Ci saranno 10 episodi Di fila In cui scavo un cazzo Di tunnel dritto Ponte Tunnel tutto dritto Dal traglio Buco le montagne Trapazzo l'universo E arrivo fino allo spawn Dritto Vedete Una ferrovia Fotte un cazzo Un Ariados Quanto cazzo Fico Quanto è Fico Uccidimi Almeno non lo uso più Quanto è Fico Lo sto contemplando Raga Ok basta Cosa ho visto Cosa ha al posto del culo Vabbè facciamo finta di niente Il fatto buono è che Siccome è una foresta di birch Sto trovando un sacco di funghi Io mangio Io mangio E mi riempio pure la fame Allora Casa 480 metri Mamma mia Poco dopo metà strada Cioè Sembrano passate ore Niente proprio Zero Eccomi Sono arrivato al mio lago Che bello Finalmente ce l'ho fatta E raccomandiamo un po' di funghetti Almeno mangio ancora Eh si perché anche lì dovrò mangiare E ora mo che mi invento Raga no Non so dove do cominciare Cioè Oddio Si Una vaga idea ce l'ho Come vi avevo detto Dovevo scegliere Tra la casa sopra O la miniera sotto Perché effettivamente Anche l'orto Per dire Se io dovessi fare un piccolo orto Non sarebbe una cattiva idea Però Come sapete ragazzi La situazione è quella che è Se io faccio l'orto Big Dovrei considerare Tipo faccio La zona agricola Sarà un'altra struttura Magari Tipo la fattoria Ovviamente La mia casa sarà proprio al centro Quindi laggiù Dove l'acqua è più profonda E quindi dovrei creare La struttura per la miniera lì Quanta cobblestone Mi è rimasta 60 cobblestone Non credo basti Non credo basti Ma qualcosa posso fare Certo Ho dato via tutto il ferro Almeno Tre pezzi di ferro Per fare un piccone Un piccone Una palla Una cetta Mi potevo tenere Devo rimediare Tre pezzi di ferro Intanto un pezzo di legno Almeno mi rifaccio Un piccone di legno E poi andiamo a rimediare Tre pezzi di ferro Al volo Dentro una grotta Se la trovo Oh oh Il giorno fortunato Tanti funghi Sì non ho trovato ferro Ma tanti funghi Questi mi servono Sì 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 Cibo Ci vuoi altri funghi Tipo No Cos'è Ma scambiatono tutto Per un fungo Ok raga Credo di aver trovato Il posto giusto Non ci sono torce Non c'è niente di niente E c'è del ferro Hai visto che lo trovavo Hai visto che lo trovavo Craft in table Piccone di pietra Ferro Oh sì ragazzi Di sicuro Col piccone di pietra Non me ne vado in giro Fotte cazzi Solo piccone in ferro E poi farò in diamante Fra un poco lo trovo Sì sì Fra un poco troverò il diamante Non c'è dubbio Vabbè ragazzi Per questo video è tutto Mi spiace Che non abbia fatto nulla Di veramente utile Perché speravo Vabbè Ho fatto la mia prima sfida Pokémon ragazzi Il titolo dell'episodio Sarà la mia prima sfida Il Pokémon che livella In un anno secondo E il bug Del Pixelmon Super Cheat Eh ragazzi Per questo video è tutto Io vi saluto Vi invito a lasciare un mi piace Se la serie vi piace Fatemelo sapere Insomma scrivete Commentate Io cercherò di leggere i commenti E nel prossimo video Io magari mentre lavoro un po' a casa Mi leggo qualche commento Che ne pensate Quindi Per questo video è tutto Io vi saluto Ci vediamo nel prossimo video E Bella Non giocate troppi Pokémon Mi fanno male